Stava per cominciare la più incredibile, fantasmagorica, eccezionale, diciamo pure paradisiaca partita di calcio che mente umana e forse divina avrebbe mai potuto concepire in campo, e che campo, tutti i grandi campioni della storia. Marino Bartoletti, noto, notissimo volto del giornalismo italiano, ha da testa su iniziativa dell'Associazione Museate per la presentazione del libro La partita degli dei, ma questa fantasmagorica partita qual è? È una partita che ho immaginato e che ho visto solo io, perché si parte dal fatto che tanti calciatori, tanti campioni, soprattutto anche negli ultimi tempi, se ne sono andati nel luogo, con la L maiuscola, in questo paradiso che io non nomino quasi mai, e quindi qualcuno ha pensato, chissà, se avessero voglia di fare una grande partita fra di loro. E allora ecco questa partita degli dei, con da una parte tutti i grandi stranieri che non hanno mai giocato nel nostro campionato, quindi Pelè, Cruyff, Di Stefano, Besta, eccetera, eccetera, dall'altra invece i grandi stranieri che hanno giocato nella Serie A, quindi Maradone e altri ancora, i grandi italiani, compresi alcuni ragazzi a cui la vita non ha fatto l'ultima carezza, tipo Stefano Porgonovo o tipo Gigi Meroni, insomma è una bella squadra, due belle squadre, è una partita meravigliosa che si gioca in un luogo meraviglioso che per adesso non svelo, ma sarà sicuramente affascinante leggerla. Ha condotto trasmissioni tipo il processo del lunedì, la domenica sportiva, pressing, quelli che il calcio, è stato direttore del Green Sportivo e dell'Enciclopedia Treccani, insomma qual è il ruolo che le è piaciuto di più? Guardi, io sto amando molto questo ruolo di scrittore, che è un ruolo senile perché ho cominciato a scrivere libri importanti dopo i 70 anni e devo dire che mi dà una pace, una quiete, un appagamento, una soddisfazione anche in questi incontri come quello che sto facendo oggi a Datessa che mi riempiono veramente di orgoglio ma anche di soddisfazione per una cosa che è arrivata forse un po' tardi ma che per fortuna è nata bene. Ecco, il campione che le ha lasciato qualcosa in più, che ha incontrato in un'intervista, in un momento passato insieme? Sono tanti i campioni e molti li ritroviamo qui, nel primo libro certamente Marco Pantani, nel secondo libro certamente Maradone e Paolo Rossi, nel terzo libro anche i campioni non dello sport perché ce ne sono tantissimi e qui faccio incontrare fra di loro Massimo Troisi e Pino Daniele e nell'ultimo è difficile scegliere, comunque il libro è dedicato a Gianluca Vialli e la dedica è che ci ha insegnato la gentilezza anche nel momento dell'addio e sono piccoli fratelli per me a cui ho voluto dare, non dico nuova vita, ma la gioia di ritrovarsi assieme in questi libri. Ecco, lei è qui da tessa per intercessione di un amico. Amico Mario, Mario Fornarola che da tempo sognava questa cosa, in fondo la sognavo anch'io ed è stato molto bello ritrovarci, fra l'altro vicino a delle cose dedicate al suo papà, lui è un grande collezionista di giornali, di riviste vecchie, ogni tanto mi dona delle immagini straordinarie che mi tornano buono per scrivere delle cose, però la gioia è vedere l'affetto nei volti che mi stanno sfilando davanti e sono sicuro che sarà una serata bellissima. Una serata in cui lei sarà intervistato da Giulio Borrelli che è un'altra grande firma del giornalismo italiano. Questa è una grande sorpresa, devo dire, mi fa molto felice, sono felice di incontrarlo, di riabbracciarlo, abbiamo diviso esperienze comuni a Saxarubra, ai tempi miei della RAI, e quindi devo dire che sono stato intervistato da un ministro una volta però non ancora da un sindaco, quindi ho colmato una lacuna.